Ciao, benvenuto in un nuovo video sugli animali del mondo. Oggi scopriremo di più sulla regalità dei leoni e sulle principali otto curiosità riguardanti la loro criniera. La regalità dei leoni è un termine che si riferisce ai leoni che vivono in gruppi sociali organizzati e gerarchici, noti come branchi. In queste società un maschio dominante o re esercita il controllo sulla manda e sulla sua compagna o compagne. Questo maschio detiene il potere per un certo periodo di tempo e spesso lotta con altri maschi per mantenere la sua posizione dominante. La regalità dei leoni è stata oggetto di molte ricerche scientifiche che hanno evidenziato l'importanza della cooperazione e della divisione del lavoro all'interno del branco per la sopravvivenza e la riproduzione della specie. I membri del branco lavorano insieme per cacciare, proteggere i cuccioli e mantenere l'ordine sociale. Questo modello di organizzazione sociale è stato descritto come un esempio di regalità perché i membri del branco sono organizzati in una gerarchia che è simile a quella delle monarchie umane, con un re che esercita il potere e i suoi sudditi che lo supportano. Prima di proseguire con il video ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Il leone è l'unico felino ad avere la criniera che gli dona un sentore di regalità. Scopriamo allora di seguito otto curiosità sulla sua criniera. All'ottavo posto troviamo l'origine. La storia dei leoni inizia in Africa circa due milioni di anni fa. Da lì si sono diffusi in altri continenti, asiatico, europeo e americano. In base alle pitture rupestri si pensa che i primi esemplari di questa specie di felini non avessero la criniera. Una delle ipotesi è che questa caratteristica sia apparsa nelle popolazioni africane circa 300 o 200 mila anni fa. Gli esemplari con questa caratteristica presentavano un certo vantaggio selettivo che ha consentito l'espansione dei leoni con la criniera nel resto dei continenti e la progressiva sostituzione degli esemplari che ne erano privi. Al settimo posto troviamo cambia da esemplare a esemplare. La criniera può avere diverse colorazioni, pertanto può andare dal biondo al rossastro al marrone. I leoni più anziani hanno generalmente delle criniere di colori più scuri. Si è osservato che anche la densità varia poiché alcuni esemplari hanno criniere più fitte di altri. Al sesto posto troviamo i leoni nascono senza criniera. Sebbene la criniera sia una caratteristica distinguibile ed evidente nei maschi, i piccoli non nascono già con questa caratteristica. La sua comparsa avviene tra gli 11 e i 12 mesi di vita, quando, nei giovani leoni, inizia la produzione ormonale di testosterone, un fatto interessante sulla crescita di questi felini. Al quinto posto troviamo semplifica la riproduzione. La funzione della criniera è quella di facilitare la riproduzione perché è una caratteristica vistosa a cui le femmine prestano molta attenzione. Questo perché riflette lo stato di salute e la capacità di combattimento del leone. Le leonesse vogliono accoppiarsi con esemplari forti, sani, longevi e fertili, cioè con criniere lunghe e scure. In questo modo il branco e i piccoli saranno ben difesi. Al quarto posto troviamo la criniera dei leoni è fonte di calore. Come è logico pensare, più pelo si ha, più alta è la temperatura corporea e così succede con la criniera. Dunque può anche comportare problemi. Il re della savana può soffrire di stress da caldo per via di questa caratteristica che è per lui tanto vantaggiosa. È stata condotta una ricerca che dimostra quanto appena detto. Inoltre mostra che la lunghezza e la densità delle criniere possono variare a seconda della stagione o dell'area geografica, grazie alle condizioni climatiche prevalenti. Altro fatto curioso dei leoni. Al terzo posto troviamo le leonesse non hanno bisogno delle criniere. Le criniere sono un attributo sorprendente ma rappresentano anche un costo elevato. I leoni possono risultare più visibili alle prede e perdere agilità a causa di questo strato di pelliccia. In generale le leonesse sono responsabili della caccia quindi non hanno bisogno di una criniera che ostacolerebbe il loro lavoro. In questo modo possono passare inosservate. Al secondo posto troviamo esistono leoni senza criniera? Anche se può sembrare assurdo esistono leoni senza criniera. Quelli dello Tsavo, un parco nazionale situato nel sud del Kenya, in Africa. A differenza di quanto accade in altre parti del mondo, i maschi in questa zona sono poveri o privi di questa caratteristica pelliccia intorno al muso. La spiegazione è semplice. Si tratta di un luogo dal caldo estremo e precipitazioni annuali scarse. Quindi avere una criniera significherebbe mettere a rischio i leoni a causa del suo elevato costo energetico. Al primo posto troviamo le leonesse possono avere la criniera? Un fatto insolito e sorprendente è che esistono anche leonesse con la criniera. Sono state effettuate delle osservazioni in Botswana, nel delta del Lokavango, su cinque esemplari femmine. Queste manifestavano comportamenti maschili come frequenti forti ruggiti, la marcatura del territorio e cercavano persino di montare altre femmine. L'ipotesi è che si tratti di leonesse con una maggiore produzione di testosterone. Si ritiene inoltre che siano sterili. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.